In collegamento telefonico con il responsabile dell'ufficio di promozione turistica e culturale del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta. Enrico, buongiorno. Il comune di Castellabate è stato scelto tra le località campane in sfida per la settima edizione del Borgo dei Borghi, la grande sfida 2019. Un'opportunità che si ripete dunque, Enrico? Sì, un'opportunità che si ripete dopo la felice esperienza del 2016, quando abbiamo sfiorato per un soffio proprio il massimo gradino del podio come il Borgo dei Borghi. L'ennesima prova è che Castellabate in questo momento vive di grande risonanza mediatica, pubblicitaria. La RAI ci dà di nuovo questa possibilità per partecipare a questo concorso importante, legato a un riconoscimento importante, che è quello dei Borghi più belli d'Italia. Ricordiamo che ci sarà la possibilità di votare fino al 17 ottobre e proprio l'ufficio di promozione turistica insieme alle associazioni del territorio si sta già mobilitando. Ecco, vogliamo spiegare a chi seguirà questo servizio come fare per votare? Sì, su indicazione del sindaco assessorato al turismo del comune di Castellabate, sulla scorta delle esperienze passate, noi ci siamo attivati come ufficio di promozione turistica in sinergia con tutte le associazioni presenti sul territorio, che sono la nostra linfa vitale nella programmazione di tutti gli eventi. Quindi avremo dei punti di voto a livello logistico importanti attraverso le varie associazioni operanti sul territorio. Quindi è una mobilitazione di massa legata soprattutto alla passione, al cuore e all'amore per questo territorio. Rivedere Castellabate di nuovo sugli schermi della RAI per partecipare a questo concorso, la cui finale poi ci sarà il 17 ottobre 2019. Per noi costituisce un elemento di grande orgoglio e soprattutto di grande soddisfazione. Noi stiamo facendo il massimo per far sì che ogni giorno arrivino tanti voti proprio sul sito della RAI. Già dai primi giorni e dalle prime ore stiamo avendo dei riscontri positivi e sulle ali dell'entusiasmo. Siamo Castellabate, il borgo dei borghi, anche perché in questa fase sarà diversa dal 2016 quando eravamo da soli a concorrere per la Campania. Oggi noi concorriamo per avere la palma della Campania insieme a altri due comuni che sono borghi più belli d'Italia, che sono Montesarchio in provincia di Benevento e San D'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino. Quindi è una doppia sfida, un doppio impegno e soprattutto una doppia soddisfazione per far sì che Castellabate possa rappresentare in toto la Campania, come borgo più bello d'Italia. Bene, noi vi facciamo un grande in bocca al lupo come redazione di Cilento Channel e speriamo insomma che dopo il 17 ottobre possiamo realizzare un altro servizio con ovviamente in alto il nome di Castellabate come il borgo più bello d'Italia. Questo ce lo auguriamo, ma soprattutto attraverso la vostra comunicazione, attraverso i vostri mezzi di comunicazione, noi lanciamo l'appello a tanti turisti e tanti cittadini che amano Castellabate e scelgono Castellabate come luogo delle vacanze e soprattutto come buon ritiro. Quindi votate, votate, votate Castellabate, il borgo dei borghi che partecipa anche quest'anno al concorso nazionale dei borghi più belli d'Italia. Ricordo il sito per votare www.rai.it slash borgo dei borghi e qui insomma si potrà accedere e ci saranno anche le modalità per poter votare. Dateci una grossa mano perché voi portate il nome attraverso la vostra emittente del territorio del Cilento e noi rappresentiamo il Cilento in tutte le sue sfaccettature attraverso il nostro mare e quindi ci serve anche il vostro fondamentale aiuto a promozionare questo concorso nazionale. Grazie, grazie, grazie. Ancora un in bocca al lupo, a risentirci Enrico. Grazie Raffaella, grazie.